E' chiusa, è chiusa, è chiusa, 4-2, dipendiamo sto Müller Signal arbitro, signor arbitro, yes, e vanno a vincere, e vanno a vincere, boom Eccolo qua, Thomas Müller, vero che match, finalmente, finalmente abbiamo vinto, buonissimo Buonissimo ragazzi, e con questi crediti, credo che appunto, o meglio, riuscirò a fare anche altri pink pale nei giorni successivi Comunque ragazzi, detto questo, eccolo qua, Müller doppione, io non ho altro da dire, mi raccomando, lasciate un bel mi piace Che ormai dobbiamo tenere i 4.500 a video, quindi lasciate un bel mi piace, perché forse anche domani mi arriva la GoPro Quindi dovete lasciare un bel mi piace, e detto questo, aggiungete anche i preferiti, condividete, fate quel che volete E scrivetemi, se volete, a T-Live Screaming Quindi detto questo, io vi risaluto, vi dico potente appare al centro del prossimo video, bolla